però come preparare un hamburger play allora ecco la fetta di pane useremo questa andiamo avanti friggiamola ora facciamola cuocere ecco giriamo ed è pronto poi ci mettiamo questa carne poi ci mettiamo questa insalata ci mettiamo questo ketchup poi ci mettiamo questo formaggio poi ci mettiamo un'altra fetta di pane e per contorno un gelato questo qui il piatto lo mettiamo questo e la visuale aia al mare ecco il nostro hamburger ora lo salviamo prima e ora buon appetito addio hamburger buon appetito e voilà ora invece vi mostrerò un altro gioco ragazzi dot un gioco degli abbinamenti dovete abbinare